ciao scusate se facciamo un altro video ma vi voglio dire che domani c'è ok va così qui dentro è tutto ok ovviamente domani c'è anche Wolfsburg e Napoli la partita del meteore io domani farò un video scusate non lo sono dimenticato prima comunque io domani farò un video su questa partita su questa partita si Wolfsburg e Napoli amichevole speriamo di vincere ce la possiamo fare possiamo vincere come contro il Borussia Dortmund dai Napoli forza Napoli sempre forza Napoli a domani